Gesù passava per le vie della Galilea, una folla lo seguiva. Erano stordi, erano ciechi, erano sordi, erano serbi, uomini infelici. Per ciascuno aveva una parola di speranza e di amore. Lui era Dio. Nessuno ha più amore di colui che dà la vita per il proprio fratello. Io sono morto per ciascuno di voi. Io sono risurdo per darvi la vita. Alleluia. Grazie Signore. Grazie mio Dio. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore.